Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di sabato a San Leo, frazione alle porte di Arezzo, un settantenne ha perso la vita dopo essere stato travolto da un autobus. L'uomo si trovava sul ciglio della strada che porta a Pratantico, la strada regionale 69, quando è stato colpito dall'angolo anteriore del pullman. L'anziano era sceso dalla propria auto, stando alle prime ricostruzioni per spostare un capriolo morto, il cui corpo si trovava sulla carreggiata. In quel momento è sopraggiunta la corriera di linea che, complice probabilmente la scarsa illuminazione della zona, lo ha colpito, sembrerebbe alla testa. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 18, a bordo del pullman si trovavano alcuni passeggeri. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica, ma per il settantenne non c'era più nulla da fare, molto probabilmente infatti l'impatto ha causato la morte sul colpo. Presenta anche la polizia municipale per i rilievi di legge per regolare il traffico. L'autista dell'autobus attualmente si trova all'ospedale San Donato di Arezzo per le analisi del caso.